Ciao a tutti! In questo video vi voglio mostrare la mia collezione di tasse. Questa è la prima con un delizioso unicorno rosa e un bellissimo tappo azzurro. A me piace molto, l'ho comprata da Viridea Pavia. Se volete mi sembra che ce ne siano ancora e costava sui 5 euro. Dopo questa è un acquisto abbastanza recente, l'ho presa da Tiger a Pavia. È molto bella, ho pagato 2 euro, nonostante il prezzo basso direi che è molto valida perché va anche da vastoviglie e non si è scolorita minimamente. Poi ho questa tazza di Snoopy, io adoro Snoopy. Questa arriva dalla provincia di Torino, l'ho presa in un negozio che si chiama Peraga, pagata 5 euro. È molto bella ed è anche originale. Questa invece è una tazza con i My Little Pony. Sono quelle della Walcor, che danno con dentro il sacchettino dei cioccolatini. E sono tazze che paghi 3,99 euro, mi paro 2,99 euro, non mi ricordo bene. E sono molto valide perché nonostante molti, molti lavaggi non scoloriscono. Quindi ve le consiglio. Questa è la tazza di Petz, sempre dalla marca Walcor, dei cioccolatini. Anche questa è molto valida. A me piace molto Max, che è il protagonista di questo film. Infatti è un'altra tazza a questa tematica. Che sarebbe questa. E purtroppo è scolorita, a differenza dell'altra. Questa è una tazza che ho comprato da Mason. E costa molto di più, costa sui 14 euro. Questa tazza invece è un bellissimo regalo che mi hanno fatto per il compleanno dell'anno scorso. La cavalla che vedete su Evanilla. È una cavalla molto speciale per me, che io adoro. E tutti sanno che adoro. Quindi hanno pensato bene di regalarmi una tazza con lei sopra. E il regalo è stato veramente molto molto gradito. Guardate quanto è bella. Poi questa tazza arriva da Bolzano. In una cartoliera di Bolzano, dell'anici. Ed è molto molto bella. L'unico problema è che non posso usarla. Perché quando la riempio esce un po' di liquido da sotto. Quindi la uso come portapenne. Però, insomma, è molto carina. È fatta bene. Questi cavalli qua sono molto belli. Secondo me dovrebbero essere dei gipsi o degli scobo. Dal pelo, da come sono fatti i disegnati. Ditemi se sbaglio. E per ultima, non per meno importanza, che questa è una tazza storica. Perché è della Galupi. E me l'aveva regalata mia mamma quando ero piccina. E questa tazza è del 2004. Quindi è ben 14 anni. È vecchissima. Però, nonostante tutto, è quasi nuova. Cioè, sembra quasi nuova. E niente, questa è la mia collezione delle tazze. Vi lascio qualche ultima clip e vi saluto.